E' in arrivo il nuovo DPCM, venerdì 4 dicembre le marche dovrebbero tornare gialle, il governo concederà qualche allentamento ma non intende mollare la linea del rigore. Nel ventaglio delle opzioni prese in considerazione però c'è anche quella che riguarda la proroga dell'orario di apertura dei negozi fino alle 21 o anche oltre per garantire un giusto scaglionamento dei clienti ed anche per evitare assembramenti in vista dello shopping natalizio. Tra i negozianti pesaresi per ora pur trattandosi soltanto di un'ipotesi c'è soddisfazione rispetto ad un'eventuale apertura prolungata, per molti un'occasione di guadagno anche in vista delle feste natalizie che si avvicinano e che indubbiamente porteranno più clienti a spendere. Nel caso i clienti avessero bisogno noi siamo disponibili e a rimanere anche insomma oltre il solito orario di apertura. In ogni caso a dicembre comunque già prima rimanevo fino a tardi a finire le lavorazioni e le ordinazioni quindi non ho problemi a prolungare l'orario. Quindi l'apertura prolungata è un'occasione? Potrebbe essere un'occasione sì sicuramente per gestire i clienti, le vendite in un orario più ampio. Sicuramente aiuterà il commercio, ancora noi personalmente non ci siamo organizzati perché logicamente sono ore in più di lavoro ma faremo tutto il possibile per accogliere i clienti. Però speriamo in questo nuovo DPCM quindi che ci sia un nuovo movimento per noi, per tutti insomma, specialmente nei centri storici. Ci stiamo organizzando e sicuramente va tutto bene fino a quando ci danno la possibilità di lavorare per cui bene e ben venga anche la sera in negozi. Fino adesso com'è andata? C'è stato movimento? Fino adesso abbiamo lavorato, speriamo di continuare, speriamo in questo Natale anche un po' più triste però ci proviamo, ce la mettiamo tutta. Direi assolutamente un vantaggio, poi ci si organizzerà, l'importante è lavorare perché davvero non si può più andare avanti così. È giusto darci la possibilità di poter lavorare tutti e forse magari avere un tempo un pochino più lungo di apertura ci darà la possibilità di lavorare meglio e in sicurezza.